I mestieri che offendi Miriam si reca ai campi ogni mattina e studia di notte i libri di medicina per loro i mestieri sono stanchi di essere offesi ne vedo morire ogni giorno di quelli più attesi pasticceri, camerieri, sarte o infermieri cercatevi un mestiere ma fatelo respirare non togliamo l'arte a chi ce l'ha nel cuore e diamo più valore a chi il suo mestiere lo sa fare e se proprio di crisi vogliamo parlare pensiamo a tutti i mestieri cui abbiamo tolto il nome